posso guardare nel tuo pannolino vi presento topotto topotto è molto curioso smonta sempre i suoi giochi per vedere cosa c'è dentro curiosa in tutti i buchi che incontra dentro le tane i vasi e le bottiglie ficca in naso proprio dappertutto la curiosità di topotto non ha limiti posso guardare nel tuo pannolino chiede all'amico leprottino certo che sì risponde leprottino lì topotto trova sette palline di cacca poi corre da betta e le chiede posso dare un'occhiata dentro il tuo pannolino guarda pure risponde la capretta proprio come pensavo tante cacchette scure esclama topotto ehi teo posso dare un'occhiata nel tuo pannolino chiede al cane sì risponde teo divertito dalla strana richiesta la tua cacca ha una forma deliziosa amico mio commenta topotto topotto è sempre più curioso chi lo ferma più ehi clara posso guardare nel tuo pannolino chiede alla mucca certo che sì risponde clara con orgoglio non ci posso credere ride topotto è enorme fulmine posso dare un'occhiata dentro il tuo pannolino chiede al cavallo fai pure risponde il cavallo tre glosse palle rotonde complimenti amico mio alla fine topotto raggiunge il timido pigghi ehi pigghi vorrei vedere che cosa c'è dentro il tuo pannolino posso gli chiede beh ok balbetta il maialino fantastica la tua cacca è la migliore pigghi ehi topotto ora guardiamo noi nel tuo pannolino esclamano clara pigghi leprottino teo betta e fulmine nessun problema dice topotto oh esclamano tutti i sorpresi il tuo pannolino è vuoto com'è possibile semplice ho imparato a fare la cacca nel vasino guardate il vasino vogliamo imparare anche noi ci insegni ma certo tutto 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 Grazie a tutti.